Dentro gli occhi tuoi c'è il mare che vorrei di vivere Voglia di condividere le proprie sensazioni attraverso la musica e lo spirito che guida il cantatore Giuseppe Ippolito, classe 1980, che continua la promozione della sua ultima opera, l'album Centofiori Questa notte ci vado a fondo per capire con sé Quel progetto ovviamente nasce da un album che appunto è stato realizzato l'anno scorso E all'interno di questo disco chiaramente sono otto brani e attualmente c'è una canzone, Bella come sei, come tu già prima accennavi Sulla quale è stato fatto un videoclip e che appunto stiamo cercando di spingere un pochettino, di promuovere E al di là di questo della canzone che d'amore, del brano che può comunicare la sua sensualità Perché poi è questo quello che cerco di fare La canzone viene dal disco Centofiori che parla appunto di qualcosa di un po' più profondo a livello sociale Stiamo andando in giro, stiamo facendo dei tour, stiamo facendo delle serate Le cui date ovviamente escono di settimana in settimana Quindi è anche un pochettino complicato dare con anticipo, dire un pochettino le date Invito le persone, a chi fosse interessato, a potersi collegare, a visitare la pagina di Facebook La mia pagina musicale Giuseppe Ippolito E quindi vedere quelle che sono gli appuntamenti, le date che man mano vengono fuori C'è anche chiaramente il canale di Youtube dove se si digita Giuseppe Ippolito Potete anche là ascoltare della musica, vedere i videoclip, insomma un po' tutti i progetti in corso È una luce che diffondere saprai Riaccendere 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 Riaccendere